Il Mapiro, insomma, è l'attore, l'uomo e la maschera, è difficile distinguerli a volte e soprattutto nella realtà odierna. Quante maschere ci sono? Perché non le portano solo gli attori. Io credo che ormai il mondo sia fatto di maschere. Siamo sempre al Carnevale di Venezia, o di Rio, o di Viareggio, siamo sempre lì. Ci divertiamo meno però, perché il Carnevale è una festa divertente e triste proprio perché è troppo divertente. Io credo che, almeno per chi non è attore, per chi non svolge questa professione, ormai sempre più difficile, perché noi sappiamo che la crisi è entrata a far parte da molto tempo anche nello spettacolo, nel mondo dello spettacolo, che di mondo si può parlare perché siamo veramente in tanti. Rischiamo di diventare dei veri Charlotte, ma dei veri Charlotte, dei veri Trump, dei veri vagabundi. Siamo su un filo proprio molto sottile e nessuno di noi è un grande Barnum. Allora, collegandomi a questo filo sottile che tu hai citato, potrebbe essere un filo di seta, il filo di ognuno di noi, come ce lo immaginiamo, no? Io ti chiedo questo, so che tu in un passaggio, durante una dichiarazione che hai fatto, che è stata accolta anche oltre da queste telecamere, da quelle del film, hai detto che c'è stata una cosa, che di tutte le corde che sono state toccate, di tutti i fili che sono stati mossi, ti ha colpito enormemente ed è il messaggio di positività che passa attraverso il cortometraggio. Che cosa ti ha colpito nel e del cortometraggio, oltre l'intensità interpretativa di Vincenzo Bocciarelli che abbiamo visto anche dal vivo? Beh, l'intensità interpretativa credo che sia poi l'idea della regia, dell'ideatore, del team, che è quella di far passare un messaggio quasi di facciamo pace con noi stessi, stiamo insieme, stiamo vicini, vogliamoci bene, ma non nella maniera più così, insomma, ovvia del termine. C'è proprio un bisogno adesso, un bisogno, come c'è stato il bisogno di metterci online tanti anni fa e di dire cos'è online, cos'è il web, cos'è Facebook, cosa sono i social. Adesso facciamo i social, io e te, vediamoci, prendiamoci il caffè, parliamo degli amanti, dei fidanzati, dei mariti, di chi non c'è più, di quello che potrebbe essere, di tutto, di niente, ma vediamoci. Come dicono gli inglesi, we meet, incontriamoci, incontriamoci. Vis-a-vis. Vis-a-vis. Credo che ci sia questo bisogno oggi. Il teatro è anche questo, no? Questo vis-a-vis il teatro. Certo, perché è un passaggio diretto di emozioni tra il pubblico e l'attore che recita, gli artisti che recitano, ed è ogni sera una grande emozione. Si recita paradossalmente lo stesso testo, ma con sfumature diverse. L'attore dice le stesse cose, ma si regola astutamente con il pubblico che ha in sala sera per sera. E non è mai lo stesso. Anche se il pubblico torna due volte, torna due volte con un animo completamente diverso. E quindi vuole altro. Vuole quello, ma in un'altra maniera. Quindi il messaggio deve passare, ma deve essere filtrato da tante cose. E il grande attore è quello che riesce a emozionare. Io stasera ho visto una bellissima prova d'attore. Sono molto felice. Sono veramente molto felice. Perché oltre ad essere amica da anni di Vincenzo, non vedevo Pierpaolo da tanti anni. Ci siamo incontrati sul set di Stefano Reali, una storia italiana. Set che ha lanciato Boba, dove io ero protagonista, ero la mamma, già all'epoca facevo le mamme. Ma come non è possibile, non ci credo. E insomma, adesso sarebbe più normale. E io ti farei fare la ballerina, sai, a proposito di luce della ribalta. Tu mi metteresti sui fili. Torniamo al filo. L'opera di Chaplin, alla quale ti senti più legata, se ce n'è una in particolare, insomma, un film che ti ha emozionata. Non mi viene il titolo, ma è quello che si vede da sempre con lui di spalle in alcuni trailer, alcuni film di spalle. E con questa ragazza e un cane che vanno via di spalle, camminando un po' malfermi sulle gambe. E poi lui mi fa impazzire quando gioca con la palla, quando Hitler gioca col mappamondo. E quella è un'idea geniale. Io non so a chi sia venuta, forse gliel'hanno suggerita. L'ha fatta sua, è sua, non lo so. Però credo che quello è un gioco che vorremmo fare tutti, sotto sotto. E ci piace chiudere così. Grazie mio Piro, grazie.